La differenza di vedute tra comune e sindacati sul numero di dipendenti da destinare ai servizi di anagrafe, stato civile e urp ha fatto saltare il tavolo di mediazione in prefettura. I lavoratori di questi uffici, in stato di agitazione dal mese di aprile, sciopereranno il 31 maggio. Sarà uno sciopero di due ore. La carenza di personale, ci tengono a precisare i sindacati, non riguarda solo l'organizzazione interna al comune, riguarda tutti. E' bene che i cittadini sappiano che se ci sono meno servizi, se c'è meno attenzione alle loro pratiche, se c'è minore possibilità di realizzare in tempi brevi anche quello che si aspetta, non è colpa dei lavoratori perché sono fannulloni o nulla facenti o non fanno con professionalità il loro mestiere. Ma questo è dovuto al fatto che c'è un'amministrazione che non investe su di loro, che non investe in alcuni settori e che sceglie sempre e soltanto quelli che hanno a che fare con la propaganda. La propaganda che secondo i sindacati animerebbe il comune nella sua attività amministrativa è legata alla sicurezza. Proprio in questi giorni Caffarsetti ha varato il piano di fabbisogno di personale triennale in cui il 90% delle assunzioni è riservato alla polizia locale. E' giusto garantire la sicurezza ma l'impiego di risorse è tale, dicono i rappresentanti dei lavoratori, da mettere a rischio diversi altri servizi. L'incontro era proprio sul servizio anagrafe e stato civile del comune, un servizio fondamentale che garantisce appunto ai cittadini del nostro comune i diritti perché pensiamo carte identità elettroniche, tutta l'attività dello stato civile, insomma servizi fondamentali che hanno visto un caldo di personale di più del 10%. Noi chiedevamo di intervenire su questo settore per garantire cosa? Garantire meno coda ai cittadini, più puntualità nelle risposte, più attenzione in tutte le sedi del comune a servizi di cui la cittadinanza ha bisogno. Con lo svuotamento delle municipalità, anagrafe, stato civile e urpa, rimangono gli unici uffici di prossimità per il cittadino che li identifica con l'amministrazione stessa. Ma i suoi dipendenti, affermano in un comunicato congiunto le varie sigle sindacali, sono invece il bersaglio di offese e aggressioni da parte di utenti che subiscono la pessima organizzazione di questo servizio decisa da altri.